Dal Palazzo Ducale al Teatro Sanzio, dalla Cattedrale ai Parchi e le Piazze fino alla Festa del Duca e a quella storica dell'Aquilone. Midor, la nota azienda leader nella produzione di igienizzanti e detergenti professionali, quest'anno ha dedicato il calendario 2022 alle bellezze e alla cultura di Urbino, culla del Rinascimento. Il progetto è stato presentato ieri di fianco al Duomo, uno dei tanti simboli del co-capoluogo di provincia e città natale di Raffaello. L'iniziativa è nata lo scorso anno grazie a un'idea del responsabile della comunicazione dell'azienda, Ivan Calandra. Abbiamo voluto riprendere un qualcosa che noi realizzavamo da tanti anni, il classico calendario che davamo in omaggio a tutti i nostri clienti, e rivestirlo di una grafica nuova, di un'idea nuova per dar valore a un qualcosa. In questo caso il nostro qualcosa è la provincia di Pesorobino, perché è la sede dell'azienda dove noi operiamo da 40 anni e quindi abbiamo pensato, o anche pensato, di valorizzare il territorio, perché è giusto anche dare qualcosa in cambio al territorio, non solo prendere. Quindi siamo partiti l'anno scorso con Fermignano, nel calendario 2021, con tutte le foto di Fermignano, e quindi visto il successo abbiamo ampliato il progetto per il 2022 con il Comune di Urbino. Ci sono anche delle novità però sul calendario 2022? Sì, praticamente il nostro calendario non è formato dai cosiddetti 12 mesi, ma è formato da 24 mesi. Sono 12 mesi perché il calendario per ogni foglio è diviso in due facciate. La prima facciata abbiamo dato priorità all'immagine di Urbino con piccolo spazio ai numeri, mentre per i vecchi utilizzatori o più gli abituoi del calendario cartaceo, si può utilizzare il calendario per scrivere con meno priorità all'immagine, quindi abbiamo contentato entrambi. Il calendario Midor, realizzato in collaborazione con Rotograf, è stato stampato in 15.000 copie da parete e altrettante da tavolo. Verranno distribuite sempre in modo gratuito a tutti i clienti in Italia e all'estero. Sin dal 1982, ha sottolineato il socio fondatore Maurizio Dini, abbiamo sempre cercato di valorizzare il nostro territorio. Noi da quando siamo nati, dal 1982, abbiamo sempre cercato di divulgare il nostro territorio, perché noi viviamo qui, ci stiamo spopolando ed è giusto ed è corretto che facciamo vedere le nostre bellezze, perché c'è tanto, tanto, tanto. Questa iniziativa noi ci crediamo molto, perché se tutti quanti entrassimo in questa mentalità, quando facciamo il calendario, stampiamo dei plici aziendali delle varie attività, divulgassero i valori e i punti di forza del nostro territorio, sarebbe un grande business che costerebbe praticamente niente. Le immagini del calendario sono state fornite dal comune di Urbino, che ha appoggiato sin da subito l'iniziativa. A ringraziare l'azienda, ieri è stato direttamente il primo cittadino, Maurizio Gambini. Sì, senz'altro, è un modo per comunicare la nostra città, chiaramente ci fa molto piacere che un'azienda come Midor abbia scelto la nostra città e andrà in migliaia di copie dai suoi clienti, che quindi chiaramente è sempre un modo per promuovere, per far vedere la nostra città, sperando di poter aspettare tanta gente quando questa pandemia ci lascerà definitivamente, speriamo presto. Quindi ecco, siamo soddisfatti di questa scelta che ha fatto questa azienda.